Siamo con la nuova capogruppo del nuovo gruppo di minoranza al Consiglio Comunale di Cervinare, Veronica Spiotta, a cui domandiamo Veronica, come si è arrivati e perché si è arrivata a un nuovo gruppo? Allora, noi abbiamo deciso di costituire questo gruppo consigliare Cervinare in Comune dal nome Cervinare in Comune dopo l'ennesimo scambio di complimenti con il nostro ex capogruppo, il dottor Vincenzo Iuliano. Siamo arrivati a questa decisione perché ormai, come potete ben vedere anche voi, non c'è più dialogo, non c'è più un'unione di intenti e quindi abbiamo deciso di costituire questo nuovo gruppo in modo da poter lavorare in maniera più tranquilla e in maniera comunque più efficace. A chi dice che noi abbiamo fatto questa azione, abbiamo intrapreso questa azione perché siamo contro il ricorso, voglio smentire assolutamente questa cosa perché noi siamo a favore del ricorso, l'abbiamo dimostrato più volte, anche partecipando da un punto di vista economico, con una cifra all'inizio quando fu stabilito di fare il ricorso, abbiamo fatto interviste in cui abbiamo ribadito il nostro totale appoggio all'azione intrapresa da Iuliano e quindi dagli altri due ricorrenti. Noi siamo a favore del ricorso, siamo a favore della legalità, aspettiamo anche noi con ansia la verità. Il problema è sorto quando Iuliano ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al ricorso e quindi di tralasciare quello che poi è il ruolo che avrebbe dovuto assolvere, quello di capogruppo dell'opposizione. Sarebbe stato meglio che lui si dimettesse da capogruppo e dava la possibilità a uno di noi di seguire più attivamente le vicende perché lui era distolto da questa attività e quindi da questo ricorso.